C'è gente che, anche noi, tante volte, non possono vivere nella luce, perché sono abituati alle tenebre, sono dei pipistrilli umani, soltanto sanno muoversi nella notte. E anche noi, quando siamo nel peccato, siamo in questo stato, non tolleriamo la luce. E tanti scandali umani, tante corruzioni, ci segnalano questo. I corrotti non sanno cosa è la luce. La domanda quotidiana che noi possiamo farci è se io cammino nella luce o cammino nelle tenebre? Sono un figlio di Dio o sono finito per essere un povero pipistrillo?